Il Tribunale Amministrativo ha riammesso la lista di Daniele Stoppelli per la corsa alle elezioni amministrative del Comune di Maratea. Dunque è ufficiale, a contendersi la fascia tricolore saranno in due, Stoppelli e Luca Magliacane. Il Tar ha accolto il ricorso contro la decisione della Commissione Elettorale Circondariale di Lago Negro, che aveva escluso la lista perché presentata alle 12.17 del 27 aprile, cioè 17 minuti dopo il tempo massimo. Nel corso dell'udienza è stato dimostrato che il ritardo è stato determinato da circostanze oggettive e certificate dal comandante della Polizia Comunale. Ad esempio, si legge nella sentenza, la contemporanea presenza dei sottoscrittori di due liste elettorali per un totale di 120 persone. Gli addetti hanno dovuto per ciascuno di loro verificare l'iscrizione nei registri elettorali e questo chiaramente ha fatto ritardare la deposizione delle candidature. Ora a Maratea si può ufficialmente iniziare la campagna elettorale. La lista di Magliacane e quella di Stoppelli hanno circa tre settimane di tempo per presentare agli elettori il programma che intendono realizzare nei prossimi cinque anni. In comune era stata depositata anche la lista di Modestina Mignone, ma è stata esclusa perché presentata in ritardo e perché non risultava sottoscritta da 60 persone. Un'esclusione contro la quale l'aspirante alla carica di sindaco non ha presentato ricorso. Un'esclusione contro la quale l'aspirante alla carica di sindaco. Un'esclusione contro la quale l'aspirante alla carica di sindaco.